Due uomini e una donna avevano fatto domanda per diventare agenti dell'FBI ed avevano già superato diverse e difficili prove attitudinali per questo lavoro. Per la prova finale un agente dell'FBI porta uno degli uomini candidati al posto davanti ad una grande porta e gli mette una pistola in mano. Dobbiamo essere sicuri che tu esegua le nostre istruzioni in qualunque circostanza. All'interno della stanza troverai tua moglie seduta su una sedia. Uccidila. L'uomo risponde non starai mica parlando seriamente io non potrei mai sparare mia moglie. E la gente allora tu non sei l'uomo giusto per questo lavoro. Prenditi tua moglie e vattene a casa. Al secondo uomo candidato vengono date le stesse istruzioni. L'uomo prende la pistola ed entra nella stanza. Tutto resta calmo per circa 5 minuti. L'uomo esce dalla stanza in lacrime. Ci ho provato ma non posso uccidere mia moglie. La gente. Tu non hai le qualità che cerchiamo. Prenditi tua moglie e vattene a casa. Per finire tocca alla candidata donna. Le vengono date le stesse identiche istruzioni cioè di uccidere suo marito. Lei prende la pistola ed entra nella stanza. Si odono diversi colpi provenire dalla stanza. Uno dopo l'altro. Si sentono urla, rumore di mobili rotti, si sente battere sulle pareti. Dopo alcuni minuti il silenzio regna sovrano. La porta si apre lentamente e si vede la donna apparire sulla soglia. Si asciuga il sudore della fronte e dice. Questa pistola è caricata a salve. Ho dovuto ucciderlo assediata in faccia.